C'è? Aiuta! È Babbo Natale! Amico, ma che cosa ci fai qui? Beh, questo è il villaggio di Babbo Natale. Non dovresti essere qui. Sento che il negozio di giocattoli è in pericolo. Vecchio mio, tu non sai quanto! Capisco cosa vuoi dire. Resto tra i giocattoli! Scopidù, vieni via di lì! Resto! Norville, salva il tuo amico! Supermolide? Oh! 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 Per la barba di Giove! Per di qua! Per la barba di Giove! Oh! Per la barba di Giove! Oh! 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 Se riesco a far funzionare il Carrion, qualcuno finirà per notarci. Dobbiamo trovare Saghi e Scubi. Credo di averlo aggiustato. Corri, Marvel! Corri, Scoobart! Corri, Scoobart! Corri, Scoobart! Corri! Adesso, voglio! No, no, no! Aiuto! Qui c'è il mio sonno! Qui sulla campana! Scooby, perché suona la campana? Buon Natale! Sì, Buon Natale! Sì, Buon Natale! Sì, Buon Natale!